Una Juventus che interrompe la sua striscia di vittorie nel modo più alegrano possibile, infatti questa volta non basta l'unico gol per portare a caso il risultato pieno della trasferta di Genoa contro appunto un Genoa che se la gioca alla pare a livello di statistiche, perché comunque sia a livello di generale che importa, sono comunque valori, sono numeri più che altro molto simili, ma che allo stesso tempo ha saputo erigere le barricate senza però rinunciare alla fase offensiva. Un Genoa che è sceso in campo senza la sua punta di diamante, va a dire Tegli, e che fondamentalmente appunto è stato schiato giardino con due non attaccanti, quindi Messias e Gunnusson, che appunto tutto sono fuorché attaccanti puri, ma che allo stesso tempo hanno contribuito, a mio avviso, a creare questo, o meglio, a aiutare la squadra in fase di non possesso palla. Un Genoa che, ripeto, ha giocato fondamentalmente come ci aspettava, quindi molto di rimessa, sfruttando la velocità degli attaccanti, facendo comunque leva sulla difesa fondamentalmente a 5 e con un centrocampo che ha retto bene le incursioni juventine. D'altro canto una Juventus che crea ancora non tantissimo e quello che crea lo crea male. Infatti fondamentalmente l'unico gol lo fa, grazie al rigore, forse l'unica cosa vuole di Vlaovic in partita, quindi quel lancio in probabilità per Chiesa, poi a tu per tu con Martinez, insomma si allunga la palla, Martinez lo travolge e viene fischiato giustamente rigore. Di contro un Genoa che appunto pareggia grazie a una disattenzione di Juventina, perché comunque la difesa era molto posizionata male, era posizionata molto male, e vive l'italiano a quest'ora, e quindi insomma Ekuban ha potuto servire di testa Gudmusson che era libero praticamente, non è stato fatto bene nel fuorigioco, un po' di posizionamenti errati appunto ai difesi di Juventina, ecco che con un'azione molto casuale diciamo così, il Genoa pareggia. Un evento appunto che è troppo poco pericoloso in avanti. Allegri ha detto i gol delle punte arriveranno, sì è vero, però adesso che è anche Ken fuori per un mesetto, diciamo che quei gol vanno divisi tra Chiesa, Vlaovic e Milik. L'attacco Juventino è molto abudico, cioè nel senso anche ieri Vlaovic è stato veramente negativo, ovviamente la colpa non è soltanto di Dujan, bensì di tutta una squadra che non lo supporta a dovere, che non sfrutta le caratteristiche piene di Vlaovic, annetto che comunque il Genoa ha saputo affrontarlo bene, ha saputo conterlo bene, così come anche gli esterni, insomma i quinti di difesa dell'Udinese, dell'Udinese, sì ciao, del Genoa hanno appunto affrontato bene gli esterni della Juventus con un cambiaso che in queste ultime partite è stato veramente determinante e anche un Kostic che non è proprio brillante, insomma non ha saputo contenere bene. Quindi una difesa non perfetta ed è ovvio che quando tu non giochi in difesa in modo perfetto e già in avanti sei discretamente abudico, tu una volta che vai avanti di corto muso poi roba che il gol te lo fanno e questo è il rischio che a quale sottoposto Juventus d'Allegri ma comunque era un rischio preventivabile e che si sapeva sarebbe comunque venuto fuori più o meno, o meglio più che più o meno di qui in avanti, insomma non sempre può andare bene vincere con un tiro in porta, o meglio con quelle poche occasioni che ti crei pericolose, ripeto vai avanti 1-0 ma se non sfrutti quelle per il 2 e il 3-0, come detto appunto Allegri non si ammazza il nemico quando bisogna ammazzarlo, ecco che poi insomma basso un qualcosa di un po' più casuale, dei movimenti difensivi errati, un colpo di testa che ti fa smarcare un avversario, l'avversario non è stato ben contenuto, ecco che insomma il risultato appunto non te lo porti a casa, ma ripeto secondo me a livello anche di statistiche un pareggio meritato, un pareggio che ora mette in vantaggio l'Inter, perché comunque se dovesse vincere andrebbe a più 4, quindi ecco che il più due interista si potrebbe allungare di questi due punti e ripeto secondo me rimango sempre del parere che salvo cataclismi soltanto l'Inter può perdere lo scudetto onestamente, perché la Juventus è vero che seconda, ma ha tanti 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 limiti, ecco perché dico che Allegri sta facendo un grandissimo lavoro, dietro c'è la lotta del Ciapanò, perché comunque sia Milan che Napoli hanno veramente tanti difetti, però non si può non parlare dell'operatore del bar, io sono il tipo che non fa mai congiotture, non fa mai detrologismi e penso sempre che a volte ci sia una grande incapacità da parte di chi affronta determinate situazioni e anche qui Allegri ha detto, insomma ha fatto i complementi a massa, ha detto che comunque ha arbitrato bene e io nonostante non abbia assolutamente massa, sono d'accordo a questo punto di vista, nel senso che non ha combinato lui stesso dei flagelli, però esiste un bar e tu, bar, non puoi non richiamare l'arbitro sul foro di mano di Bani perché il cross era lontano, poi il movimento è stato magari istintivo, ha pensato Bani vado con la coscia poi magari ha fatto un ragionamento strano, comunque ci ha andato con la mano e la palla era toccata prima di andare, di essere deviata da Martinez, quindi il VAR non può non richiamare l'arbitro, non può, quindi non volendo pensare a litrologia, non solo il tipo che pensa ai complotti, ma bensì sottolinea l'incapacità di certe persone, allora uno non è stato visto o è stato giudicato nel modo peggiore possibile, comunque il pallone è stato toccato con la mano da Bani, e come fai a non richiamarlo? Come fanno a non richiamarlo l'arbitro, come dire ehi bello mio, va a vedere che lì c'è un rigore? E poi un errore 50-50, il fallo di Malinowski, allora, lui è intervenuto, piede a martello, gamba alta sullo stinco di Idiz, io già immagino dei possibili commenti che potrebbero essere, e vabbè però Idiz stava correndo, non aveva la gamba piantata, ragazzi se avesse avuto la gamba piantata gli spaccava i biperoni, perché Malinowski non aveva la gamba ritratta molle, ce l'aveva bella tesa, se il piede fosse stato piantato a terra, la gamba di Idiz andava in mille pezzi, quindi tu ammonisci, ma tu VAR non può non richiamare l'arbitro sul, diciamo, un chiaro errore, perché quello è un fallo da espulsione, e sono d'accordo con Allegri quando dice massa arbitrato bene, ma il VAR deve essere più uniforme, perché in altri casi questi due interventi sono stati sanzionati, uno con il ROS e l'altro con il rigore, e qui sono d'accordissimo, e vado contro anche quelli che mi commentano sotto i video, un utente, diciamo, ieri mi ha commentato sotto un video, l'importante è che facciano vincere ogni giornata a Mila New Vainter, ok ci possono stare gli errori, ragazzi purtroppo la sudditanza psicologica diretta o indiretta c'è sempre, purtroppo c'è sempre stata e non finirà mai di esserci, ma non si può partire a di preconcetto che si vuole favorire Mila New Vainter, anche perché la Juventus è stata trapalosamente penalizzata al netto che comunque il risultato secondo me è giusto, perché se tu anche fischiavi quel rigore al settimo minuto a ripresa, tu potevi sbagliarlo, tu potevi fare il gol del 2-1, però magari potevi farti rimontare, con i sei e con i ma, la storia non si fa, ma intanto dallo. A livello di prestazione, il Genoa ha meritato il pareggio? Certo, però quello devi darlo. Cioè non è una differenza come ad esempio l'errore contro, che hanno fatto fuori dell'Inter contro Napoli, secondo me, sul fallo di Martinez sul gol di Mkhitaryan, di Canoglu, però poi l'Inter a lungo andare ha veramente legittimato quel risultato. In questo caso poteva cambiare seriamente le sorti, poi Napoli in quel caso si è sciolto, l'Inter ha fatto il secondo o il terzo gol, quindi ha legittimato una vittoria, ma in questo caso tu intanto a un settimo da ripresa, a un ottavo da ripresa, il rigore dallo. La Juve magari non l'avrebbe vinto, ma tu comunque non puoi non fischiarlo, non è interpretazione qui, cosa che dice a lei, dice il VAR è troppo soggetto interpretazione, sì, è fallo di mano, devi fischiare fallo, punto, rigore solare. E non vorrei vedere i soliti commenti da chiacchiere da VAR, è ma la Juventus è quella lì, è ma la Juventus è quella che ha fatto Calciopoli, perché ieri, non si può dire, è stato un episodio dubbio che ieri era un episodio clamoroso, che portava, avrebbe portato rigore alla Juventus e idem sarebbe stato comunque da sanzionare con il rosso il fallo di Malinowski. Quindi facendo una metà partita, segni quel rigore, poi all'ottantottesimo il Geno sarebbe rimasto in dieci e voglio vedere poi eventualmente recuperarti un risultato in dieci contro undici. Chiarendo, non sto dicendo che il Geno ha pareggiato per quel rigore o che la Juve non ha vinto a causa di quel rigore, ma se c'è devi darlo, punto. E non voglio leggere sotto nei commenti, è ma la Juventus ha fatto in passato, è ma la Juventus ha detto, è è una prima, i Juventini non possono lamentarsi dopo anni che hanno. Ragazzi, si ragiona per ieri, punto, punto. Perché se tu che mi stai guardando, sei milianista, interista, tifoso del Napoli, della Fiorentina, della Roma, della Lazio, della Sanitana, del Torino, se il rigore di ieri non fosse stato fischiato alla tua squadra, penso che avresti fatto un po' di casino. Ok? Quindi bisogna essere onesti intellettualmente e dire il VAR ha fatto un errore clamoroso. che non è che poi si può sbagliare soltanto a sfavore della Juventus? Anche la Juventus non è che ha avuto episodi a favore e a sfavore un po' come tutte. Però, insomma, ecco. Più che altro faccio questo aggiornamento preventivo perché già immagino i commenti sotto questo video, no? Sotto questo ma come in generale sul web, quello che vi ho detto prima, quindi su questo canale che tutto faccio tranne che aumentare i ragionamenti di pancia seguendo un ragionamento popolare, come potrebbe essere appunto il e ma la Juve in passato, tutte queste boiate qui, ragioniamo sull'episodio di ieri. Ieri la Juventus non ha avuto un rigore a favore solare e non ha beneficiato di un Genua in dieci per un fallo veramente pericolosissimo di Malinowski e che andava assolutamente sanzionato con il rosso. Super sicuro su questo. Anche perché, ripeto, in altri casi, io mi ricordo sempre la Juventus contro il Crotone qualche anno fa, Chiesa fece uno step on foot, forse proprio su Messias, non mi ricordo, e venne espulso direttamente. Poi la Juve quella partita la pareggiò con uno dei tanti gol di Morata in fuorigioco di un tallone o di una punta. Insomma, quindi, ecco, se tu fischi lo step on foot qualche anno fa e cacciai il rosso a Chiesa, tu, a maggior ragione, Malinowski lo devi cacciare. E scusate se ho parlato tanto di questo aspetto, non qualcosa che va chiarito, perché è innegabile dire che in un modo o nell'altro la partita è in parte stata condizionata da questi episodi. E sottolineo che non sto dicendo che la Juventus ha perso per gli errori del VAR e non sto dicendo che il Genoa ha pareggiato, scusate, non dico che la Juve non ha vinto per gli errori del VAR, ma non dico neanche, e non dico neanche che il Genoa ha pareggiato per gli errori del VAR, ma sono episodi fattuali che in quel preciso momento possono indirizzarti la gara in un senso o in un altro. Fatemi sapere ovviamente qui sotto cosa ne pensate. Vi mando un bacione e ciao al prossimo video. Ciao ragazzi!